e in questo nuovo appuntamento con Urban The Best andiamo a ritrovare dei nostri amici abbiamo già conosciuti, li abbiamo già conosciuti attraverso un'intervista di qualche tempo fa loro sono il silenzio sospetto e allora andiamo a parlare un po' se ci sono delle novità che cosa sta succedendo in questa che è la piazza, una delle piazze più belle in assoluto di Torino che è piazza Vittorio Emanuele e in questo che è uno scenario musicale a 360 gradi abbiamo appena assistito ad un live di una band che si chiama Il Dubio di Davide che io so che apprezzate, allora vediamo qui, facciamo un'intervista al contrario qual è stata l'emozione dopo questo concerto? Vabbè sicuramente è stata l'emozione più bella stringere la mano al mio vecchio insegnante che è il chitarrista del Dubio di Davide, di rivederlo dopo tanto tempo ovviamente e ristringergli la mano di nuovo e complimentarmi con lui sicuramente, è stata l'emozione più bella Allora, lui è Marcos, Andrea, Andrea tu mi hai detto mentre stavamo guardando il concerto che è nell'ispirazione della musica, è un'influenza, è l'altra, c'è il Dubio di Davide? Assolutamente sì, sono un gruppo che per noi è fonte di ispirazione a differenza di tanti altri gruppi che si ispirano a gente ormai arrivata nel senso che comunque gente come Negramaro, Negrita, che per carità noi apprezziamo il fattore di trovare nella nostra città che è un gruppo come può essere il Dubio di Davide che è una realtà costante, che riempie appunto delle piazze e per noi è tantissimo, per me sono delle persone veramente fantastiche dei musicisti eclettici e assolutamente penso che un gruppo così dovrebbe fare molta più strada di quella che sta facendo adesso E noi comunichiamo questa strada attraverso l'Urmard Best e loro i protagonisti in questa intervista sono il silenzio sospetto allora diamo un po' una formazione, diamo un po' l'idea di quelli che sono i componenti della vostra band Guarda, ti dico già subito che tra un po' ci sarà una sorpresa quindi di conseguenza la band fondamentalmente non è cambiata è sempre Stefano Petrini alla batteria Marco Spintor alla chitarra, il grande nostro Marco Spintor e poi guardate un po' che sorpresa vi ha portato prima lo inneggiavo, stavo parlando del Dubio di Davide abbiamo detto che siete per noi una fonte di ispirazione e come poteva mancare la nostra fonte di ispirazione? Io posso rispondere questa cosa solo la fonte di ispirazione per tutta la musica indipendente torinese ma spero non solo più avanti è il Reset perché sono due ragazzi ma non solo due, sono tre in realtà in questo momento che spingono la musica indipendente torinese non a scopo di lucro e fanno dei risultati che non hanno obiezioni cioè sono dei grandi è vero, è vero ci va questa costanza questa è la strada da percorrere se la sai questa loro sono un po' i nostri tra virgolette padrini diciamo è brutto come espressione però perché loro ci hanno battezzato al nostro primo EP sai che è uscito il nostro EP e abbiamo avuto la fortuna l'onore di avere loro come persone che ci hanno dato la possibilità di poterci esprimere e di poter presentare questo nostro album quindi di conseguenza veramente grazie di cuore finalmente te lo posso dire davanti a tutti grazie a voi che non so che dire cioè davanti a questo non so che dire bene bene dai allora noi stiamo facendo questa bella rubrica sai Franco stiamo parlando di musica nuova di bella musica italiana che sta arrivando dal web e dà la possibilità di arrivare a tutti coloro che sono curiosi e con il silenzio sospetto stiamo un po' diciamo ci stiamo approfondendo attraverso i vostri brani allora Marcos so che tu sei un po' il pignolo della band com'è che vanno eh me lo ricordo com'è che vanno a essere creati i vostri brani perché di brani ce n'è anche nuovi ah sicuro quello non manca mai cioè noi continuiamo sempre per la stessa strada sempre con lo stesso schema abbastanza rigido io parto con un'idea con un'idea la sviluppo magari piano piano a computer poi ovviamente faccio sentire la mia idea in sala prove loro poi magari ci mettono dell'oro e si plasma il tutto in modo abbastanza completo bene bene allora noi ovviamente abbiamo traccia di questo di questa crescita di questa evoluzione grazie a questo EP che sta uscendo però so che sta bollendo qualcosa in pentola allora tu investe DPR dacci qualche aggiornamento assolutamente sì stiamo preparando il nostro album ovviamente abbiamo fatto diversi brani quindi di conseguenza il fattore di poter fare altra musica di poter esprimere le nostre idee ci dà la possibilità appunto di farci conoscere meglio alla gente torinese far conoscere il nostro gruppo stiamo adesso verso dicembre gennaio incomincieremo la lavorazione del nostro primo CD quindi di conseguenza ci sarà anche il video e cercheremo sicuramente di dare il massimo in modo comunque da poter far sì che la gente apprezzi le nostre idee apprezzi tutto quello che noi facciamo bene bene sentendo queste parole Franco secondo te come sta cambiando la nuova musica italiana? cambia nel senso che io guarda sono un po' si può dire stronzetto in radio? io dico sempre che e parlo da un'esperienza vissuta cioè passando da una major ti posso dire che la musica indipendente oggi la fa da padrone perché le idee, l'innovazione cioè il fatto di autoprodursi ma non solo autogestirsi è la nuova frontiera della musica italiana per cui ricordiamoci che le major sono soltanto delle insegne su dei palazzi ok? e non abbiamo paura di dirlo cioè sono delle insegne su dei palazzi la musica indipendente può fare la padrone in che senso? serate come questa dove suona il dubbio di Davide in una piazza con della gente che arriva per ascoltare della musica una musica qualsiasi e la gente che rimane nella piazza e che ha voglia di continuare a rimanere per tutto il concerto in piazza questa è la nuova frontiera quindi ricordiamoci che come accadde nel passato la storia è ciclica crediamo nell'indipendente crediamo nelle idee crediamo nell'innovazione e non sforziamoci di fare qualcosa di assolutamente nuovo sforziamoci di fare solo e unicamente quello che sentiamo nel cuore e basta senza troppi fronzoli tutto lì grandissimo lui è Franco Degru del dubbio di Davide allora andiamo in conclusione cosa ci vuoi raccontare? beh io ti voglio aggiungere una cosa da quello che dice lui tra parentesi quando ti creano qualcosa di già preparato e tu ti trovi soltanto da suonarlo è molto semplice quando invece ti trovi una realtà dove comunque sei tu a doverti mettere in gioco a cercare comunque di fare qualcosa di grande a farti scoprire dalla gente per me è tutto cioè secondo me è la dimostrazione che c'è stata questa sera dove comunque un gruppo come loro ha riempito una piazza quindi per me è molto importante questo è un pochino il nostro obiettivo anche cerchiamo di farlo al meglio e cercheremo di farlo sempre perfetto ragazzi loro sono il silenzio sospetto cercateli sul web potete così approfondire e seguire la loro crescita musicale grazie e alla prossima allora grazie mille grazie veramente di tutto ciao Marcos grazie a te grazie a te